Benvenuto nel mio laboratorio di pasticceria. Io sono Andrea Di Giglio, sono uno chef e pasticcere e ho ideato il nuovo videocorso L'arte dei dolci lievitati. Un corso imperdibile per chi ama la pasticceria e nello specifico la pasticceria lievitata. Se tu sei un appassionato di pasticceria come lo sono anch'io, clicca qui sotto e approfitta direttamente dell'offerta e ci vediamo dall'altra parte. Ciao!